Gian Maria Uggias, buongiorno! Non sbagliarmi il nome, bravo! Gian Maria, Gian Maria, ho fatto vedere se era attento. Sono venuto qui con... Grande cautela, mi sbagli il nome. Euro deputato dell'Italia dei Valori. Uggias, non Uggias. Uggias, Uggias. Lei è venuto da Olbia, direttamente col volo diretto? Magari, noi facciamo un giro enorme per arrivare qui, però ho saputo stamattina che c'è un volo Olbia-Strasburgo, o meglio, Strasburgo-Olbia, viste considerate le spiagge, sono i francesi che vengono a fare le vacanze da noi. Quindi quando arrivate da Olbia, adesso arrivate già direttamente con la paperella, con gli zoccoli... A ritorno. A ritorno. All'andata no, all'andata con la cravatta. Senti, ma tu sei... Diglio, diglio, diglio. Signor Uggias, lei è l'avvocato di Zappadu, quello che faceva le foto a Villa Certosa. Ma non dirlo così come se fosse una cosa... Scusa. Ma che fine ha fatto? Eh, questo dov'è? Dov'è? Zappadu. E' ancora Villa Certosa. E' ancora Villa Certosa. Sta sempre lui sull'albero? Sta sempre sull'albero. Adesso è in Colombia. Certo. C'è una partita... C'è una partita grossa di fotografie. Ah, di fotografie. Di fotografie. Pensavo me degli in Bogotà. No, no, no. Derby finale. Sì, facendo dei servizi lì. Gli hanno sequestrato le foto, perché Silvio non vuole... Si può parlare ma non si può vedere. Eh, certo. Non so spirare. L'unico che le può vedere sono io. Lei ha visto tutte le foto? Tutte le... Anche quelle più compromettive. Ci fa dei... Ci fai un... Un acquarello. Un schizzo. Ma c'erano delle... Ce n'era, ce n'era, ce n'era. Ma diciamo, tette? Beh, la faccetta tette. Tette, mani sulle tette. Mani sulle tette. Ma auto mani sulle tette o... Mani strane sulle tette. Di donne, di donne. Sì. Non le tette di donne. Le mani sulle donne. No, mani di uomo sulle donne. Sulle donne. Di uomo, eh? Non si fanno no. No, mani di uomo. Due mani o una per volta? Una, una. A una per volta. Un'altra da un'altra parte. Un'altra parte. Però non entrate nei dettagli. Si può pagare. Si può pagare. Riditi sono tutti riservati. Ce l'ha in mano adesso il magistrato. L'evento del magistrato. L'autunno faremo... Attenzione. Faremo l'udienza. Ah, un libro. E si vedranno le foto finalmente. Cioè, chiederemo di vedere le foto finalmente. E sarà risposto no. No, no. Sono atti giudiziari e quindi ci sarà. Non sarà colpita dalla legge sulle intercettazioni. Ci sarà una fotografia. Ma beh, ma ci sarà entro l'autunno una legge per cui le foto di Zappadu non si possono vedere. No, no, è una legge un po' generica in cui si dice che le foto... Con le mani sulle tette. Esatto, non si possono vedere. Può essere. A dire il vero. Vi racconto un episodio che è successo davanti al garante della privacy. Si può, sì, è sicuro. Se vuole Ghedini. Sì, sì, sì. E se non si lamenta Ghedini. Lo chiediamo. Signora Comi al telefono di Ghedini. Chiediamo Ghedini. Quando c'è stata l'udienza davanti al garante della privacy, noi avevamo chiesto anche di trovare un accordo per vedere il venerci incontro. Noi avevamo fatto una richiesta, anzi, Zappadu aveva fatto una richiesta. Io non farò più foto per Berlusconi, o meglio, a Berlusconi, a una condizione. La quale? Che un giorno mi dia il telecomando del suo vulcano. Perché lei sa che Berlusconi ha a Olbia la villa con un vulcano che viene azionato da un telecomando che erutta e lui stupisce tutti. E esce fuori Emilio Fede. Eh sì. Esce fuori di tutto. Tra l'altro l'ultima volta ha sbagliato. L'ultima volta ha sbagliato. È successo un casino e parete da quello dell'Islanda, tra l'altro. E sono arrivati i vigili, è successo un casino davvero, perché quando hanno visto le prime eruzioni, sono arrivati i vigili del fuoco. Senti, ma è vero che Zappadu in questo momento in realtà è dentro un pilone di un'autostrada nella Colombia? No, no, in Colombia. In Colombia, in Colombia. Questa è Radio 2, questo è un giorno a Pecola, visto questi chiari di luna, così sentiamo con il meteo che tempo c'è, ci sarà un resto d'Italia. C'è un'eruzione. Pecola, 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 un giorno da Pecola in questa. Pecola, Pecola. Grazie.